Domenico De Marco ha ammesso, Matteo Grande ha difeso alla grande e anche realizzato bene. Una gran bella partita, probabilmente una delle tue partite più complete dell'anno. Beh, ringrazio Domenico per il complimento, anche se questo aspetto del coach mi dica una cosa del genere, anche perché ho un peccato in difesa e mi era un po' arrabbiato. Comunque Domenico ha fatto un partitone, ha fatto punti, rimbalzi, otto assist, secondo me è stato lui la chiave della partita. Quanto è cambiata Gela dal giro dell'andata? Beh, Gela è cambiata parecchio, anche perché Vergara che all'andata c'è stata difficoltà, non c'era più, non c'è più, il playmaker, quello non so ne mancava. Sicuramente sono calati parecchio, perché comunque erano due pedine importanti della squadra e sicuramente hanno anche inciso il punteggio di oggi. Non arriva questa vera continuità della Redel, con qualche bella vittoria in casa, in trasferta consecutiva? Beh, penso che abbiamo fatto un passo in avanti. Ha soverato, abbiamo perso veramente di poco e si può dire che abbiamo buttato la partita. Stiamo lavorando bene in queste due settimane e penso che i risultati, anche in trasferta, si vedranno presto. Stai per ricevere l'investitura che dovrai tagliare i cavalli a zero del tuo coach quando Gianni Vecchiet verrà finalmente portato a casa. Abbiamo già comprato la macchinetta. Stai per ricevere l' trout supper, perché ci sembra di salvarsi poggiare no prognoste, per le macchine, perché ci sembra messa, se potesse succomanda la facebook. E, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti.